Oggi è il 25 ottobre e cosa doveva accadere oggi per la gioia di tutti noi? Doveva uscire su Disney Plus la serie a vetrana dedicata al caso di cronaca di Sara Scazzi. Ma ciò non è avvenuto perché sono successi dei casini, dei bordelli che adesso noi andremo a raccontare in Diva Podcast. Quindi sigla e a tra poco. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Allora, voi sapete che va di moda sulle varie piattaforme produrre serie sui vari casi di cronaca. Di recente, qualche mese fa, c'è stata la serie su Massimo Bossetti che ha fatto un sacco di hype sulla questione. Hype, polemiche e quant'altro perché nella serie è stata portata la verità di Massimo Bossetti, che non è per forza la verità in assoluto, ma la sua verità insomma, no? Con un'intervista all'interno di questa serie che appunto ha scaltelato tantissime polemiche e una fazione tra innocentisti e colpevolisti. Poi sono state fatte tante altre serie relative appunto ai vari casi e sono sia serie recitate che docu-serie, no? Ci sono queste tipologie, queste due tipologie di solito quando si parla di serie crime. Ad esempio è uscita di recente la serie dei fratelli Menendez, che però non sono riuscita a vedere sinceramente perché non mi è piaciuta. Non conoscendo il caso, ho visto due puntate e poi mi sono rotta e non l'ho proseguita, devo essere sincera. E non mi è piaciuta per dire. Quindi insomma, vabbè, poi ognuno ha i suoi gusti, guarda quelle che interessano di più. Ma ovviamente il caso di Avetrana interessa a tutti noi perché è un caso che ha fatto la storia. Un caso iconico, oserei dire, di Cronaca Nera, che ha realmente fatto la storia della Cronaca Italiana. Un po' come anche il caso appunto di Yara Gambirasio o il caso di Meredith. Insomma, sono quei casi di Cronaca che hanno fatto tantissimo clamore nel nostro paese. E quindi hanno deciso di farci una serie in collaborazione con Disney Plus, che avrebbe ospitato la serie che già fa ridere così, cioè fa già ridere così, che la serie di Avetrana vada su Disney Plus. Che lo so che Disney Plus non è solo di cose Disney e quindi di cose buoniste, ma ci sono anche film horror. Io ce l'ho, Disney Plus, e c'è la sezione Star, mi sembra si chiami, in cui ci sono vari film, ci sono varie serie TV. In realtà pago l'abbonamento e non me lo cago di striscio, devo essere sincera. Pago l'abbonamento e non mi inculo di striscio Disney Plus. E quindi ho detto, cavolo, finalmente, dato che da più di un anno pago questo cacchio di abbonamento e non ci sono praticamente mai andata, ho detto, finalmente almeno esce qualcosa per cui vale questo abbonamento. E invece hanno sospeso la serie. Questa serie doveva iniziare oggi ed è stata sospesa. Porca puttana. Allora, iniziamo dalla copertina. Allora, già su TikTok si erano create delle polemiche da parte di creator un po' moraleggianti su questa copertina. Incredibilmente trash. Facciamola vedere a tutto schermo per un attimo, regia, perché è veramente super trash, è super trashissima. E, insomma, vediamo i protagonisti, ovvero lo zio Michele, Sabrina Misseri e Cosima Misseri, insomma. E la sabrinazza che tiene in mano la foto di Sara Scazzi. E fa ridere, raga, perché questa vicenda è di un trash assoluto. Nel senso, il caso di Avetrana è forse il caso più trash che abbiamo in Italia. Cioè, proprio per la dinamica, proprio per questa terronata, vorrei dire, senza offesa, però c'è proprio una terronata, raga, diciamolo, no? Cioè, appunto, il fatto che Sara sia stata uccisa perché la cugina più grande aveva pensato, intuito, sospettato che il tipo che le piaceva e non se la cagava fosse attratto da Sara perché era bionda con gli occhi azzurri, mentre lei era un cesso. Mentre lei era un cesso e quindi per invidia ha ammazzato Sara. E dopodiché il padre, lo zio Michele, si è preso la colpa creando una situazione paradossale e circense, oserei dire, per prendersi le colpe lui quando in realtà lui è risultato non colpevole di questo reato. Poi ovviamente per anni ci sono stati dei dubbi da parte di qualcuno, forse, per il fatto che le due cesse siano finite all'ergastolo, mentre zio Michele sia stato condannato solo per complicità, insomma, soppressione di cadavere, ma non per l'omicidio, tant'è che lui è uscito in questo periodo, ma ne parliamo tra poco. E quindi a causa di questo, questa vicenda è diventata di un trash assoluto, ma faceva proprio ridere. Poi lo zio Michele, che non sapeva parlare italiano, faceva ridere in una maniera incredibile, nonostante la cosa fosse tragica, fosse morta una ragazzina, però faceva comunque ridere. Cioè questa storia sembra quasi una telenovela messicana, cioè una roba allucinante, di gelosie, cose di no, cioè fantastico. È stata una vicenda, secondo me, divertente per noi, per noi amanti dello humor nero e cinici e senza empatia, è stata una vicenda super trash. Poi per i più sensibili, magari è anche stata brutta, però per noi insensibili è stata super trash. Vabbè, quindi insomma, è uscita un po' di tempo, già da un po' di tempo questa copertina, no? Che è proprio, ma neanche trash, secondo me è inconsapevolmente trash. Secondo me gli autori non volevano fare una trashata, ma l'hanno fatta inevitabilmente, perché è trash anche la versione reale, anzi forse è più trash della serie, che però non abbiamo potuto visionare, quindi ancora non lo sappiamo, forse non lo sapremo mai, no? Però questa copertina, molti creator hanno detto che sembra la copertina di un film comico. Allora, a me non sembra la copertina di un film comico, ma più di un film di bassa lega che sfocia nel trash senza volerlo, cioè nel senso una cringiata, più che una cosa comica, una cringiata. E quindi hanno urlato questi creator allo scandalo, appunto, di in qualche modo perculare questo caso, anche se secondo me non è un perculo, ma secondo me è proprio uscita così la cosa, ma perché è basatosi su un fatto di trash reale, ecco, no? E allora ci sono state già delle polemiche e adesso, quanto pare, il sindaco di Avetrana avrebbe, insomma, tramite il tribunale, voluto sospendere questa serie, che per ora è sospesa, cioè adesso chiaramente ci sarà un dibattito, un qualcosa con i giudici, un'udienza, delle udienze, non lo so, per far sì che questa serie venga trasmessa, perché naturalmente Disney Plus ha preso posizione. Però andiamo a vedere, leggendo l'articolo, che cos'è successo e il motivo del perché si è creata questa situazione. Allora, come è capitato ad altre serie tv basate su casi drammatici di cronaca nera, anche quella che parla del delitto di Sarascazzi ha generato una polemica e un intervento della magistratura. Il giudice della sezione civile del tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, con un provvedimento di sospensione cautelare della messa in onda della serie tv Avetrana, a cui non è Hollywood. Scusate, non avevo letto il titolo per intero. Oddio, che ridere a Avetrana a cui non è Hollywood. No, raga, è troppo trash questa cosa. Cioè, è troppo trash, scusate, cioè, fa troppo ridere e tutto quanto. Allora, qui non è Hollywood sull'omicidio di Sarascazzi, prevista dal 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. Il primo cittadino, attraverso un pool di legali, chiedeva la rettifica della denominazione della serie tv, ha quindi anche il nome, il titolo, che è effettivamente super trash, e la sua sospensione immediata. Il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre. Ok, quindi il 5 novembre vedremo che cosa accadrà. Risulta indispensabile visionarla in anteprima, scriveva ancora il sindaco, al fine di appurare se l'associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico, susciti una portata diffamatoria, rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini e ferati di tale portata, contrariamente alla realtà. Non ce li fa troppo ridere sta cosa, raga. La comunità di Avetrana ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall'omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività che stimolò lente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Misteri Michele e degli altri imputati. La messa in onda del prodotto cinematografico rischia invece di determinare, prescindendo anche dal contenuto che al momento si ignora, un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo lascia presagire nel catapultare l'attenzione dell'utente sul territorio più che sul caso di cronaca. Ecco, quindi, praticamente ha dato fastidio il titolo, il titolo Avetrana, qui non è Hollywood, che in effetti fa schiattare, addio, non so se solo a me fa ridere sta cosa, fatemi sapere se fa ridere, solo a me, perché sapete che io ho problemi mentali, quindi, cioè, fatemi sapere se fa ridere anche voi, ma secondo me sì. E appunto, il sindaco ha paura che sostanzialmente questa serie sputtani la cittadina di Avetrana. Che boh, cioè non si sa, effettivamente non avendola vista non possiamo sapere, però quel che credo io è che in realtà l'attenzione venga focalizzata sulle dinamiche del delitto e non sulla cittadina in sé. Poi, se la cittadina in sé è abitata da persone ignoranti, beh, io non lo so, non sono mai andata da Avetrana, però immagino che come tutti i paesini, indipendentemente che si tratti di paesini del sud o del nord, perché anche al nord non è che tutti i paesi, cioè, ci sono le città, poi ci sono i paesini, che non è che siano molto avanti, pure al nord alcuni, quindi non è tanto quello, anche se la vicenda comunque ha dei tratti, appunto, come dicevo prima, un po' tipici del sud, no? Gelosie, cose varie, no? Però, però, insomma, non è che al nord i paesini arretrati siano tanto meno, ci sono dei paesini di montagna, comunque, che sono abitati da gente strana, e quindi noi non sappiamo come sia la gente di Avetrana, ma di sicuro la famiglia in questione, cioè, la famiglia dei misseri, era una famiglia obiettivamente arretrata, cioè, penso che non ci siano dubbi in merito che fosse tale, che fosse una famiglia arretrata, è proprio evidente, cioè, quindi, è un delitto che si è consumato all'interno di uno, come si dice, una realtà sociale di basso livello, per quanto riguarda questa famiglia, poi degli altri abitanti di Avetrana, non lo sappiamo, ma, comunque, questa famiglia era gravemente arretrata a livello culturale, ed è ovvio che, quando si è arretrati a livello culturale, si è anche più propensi a non ragionare tanto con la propria intelligenza, come in questo caso, appunto, ci è scappata alla morta, quindi, è chiaro che in queste famiglie arretrate possano accadere cose, insomma, che magari in famiglie moderne non accade, ma non è neanche detto, perché poi abbiamo visto, ultimamente, famiglie moderne, famiglie colte, in cui sono successi i vari delitti, figlio che ha ammazzato i genitori, ragazza che ha ammazzato i neonati, quindi, insomma, in realtà, poi i delitti capitano dappertutto, è più la modalità del delitto di Sarascazzi che suggerisce, insomma, una pochezza culturale, una questione di gelosie, di emotività non controllata, eccetera, eccetera. Ma invece, che cosa è successo al nostro zio Michele? Perché ultimamente lo zio Michele ha fatto un po' di, fatto un po' parlare di sé, insomma. Le iene sono andate a casa di Michele, misteri, lo zio Michele, e insomma, l'hanno intervistato e hanno passato due giorni, insomma, la iena Alessandro Sortino ha passato due giorni dallo zio Michele e appunto hanno fatto un po' di cose, l'assaggio della ricottina, la pasta con il bicchierone di vino, la passeggiata, così come niente fosse, verso i luoghi in cui venne uccisa e nascosta Sarascazzi. Insomma, quindi, il servizio televisivo di 25 minuti è andato in onda su Italia 1, ha suscitato una scia chilometrica di polemiche sui social che non finisce più. Difficile del resto riuscire ad accettare che l'obiettivo del servizio sia quello di far nuovamente confessare misseri per convincere spettatori e inquirenti che l'assassino della nipote sia stato lui. A casa di zio Michele, spazio dal quale le trasmissioni tv si collegavano a Fannosa in diretta, la telecamera scorge ancora i volantini della scomparsa di Sara, ma il nocciolo del servizio che ha fatto infuriare migliaia di commentatori online è questa intimità cameratesca, questa mancanza di tatto e rispetto nei confronti della povera ragazza morta a partire dal pellegrinaggio verso il fico, la prima tomba della ragazza e il pozzo dove venne gettato il cadavere. Missere ripete tutti questi gesti presunti compiuti per occultare il cadavere, con Ciortino che è in calza come un pubblico ministero. Successivamente i due tornano a casa dove Sara scendono in garage dove Sara viene uccisa ed ora si trova addirittura un altarino con la foto della ragazza e di alcune madonnine. Missere spiega che l'ha costruito perché crede che l'anima della nipote si aggiri ancora nel garage. quei raga di male impeggio quindi qui si aggiunge trash su trash Prima ho sentito dei rumori e non c'erano gatti sono sicuro che era lei L'uomo ha anche spiegato che avrebbe tentato ma non sarebbe riuscito a violentare la nipote prima di ucciderla in quanto questa problematica erotico-sessuale deriverebbe dalle presunte violenze sessuali subite quando aveva sei anni dagli amici del padre mentre lavorava nei campi insomma tanto è bastato affinché sui social si scatenasse l'inferno da chi ha parlato di morbosità del dolore intervista disgustosa chi si è posto alcune domande e insomma quindi le iene vabbè le iene sappiamo che fanno polemica la questione è che zio Michele che poi è andato anche in altre trasmissioni continua a raccontare di essere lui il killer poi ci vengono tutti i ricordi in questa casa tutti i ricordi che prima eravamo una grande famiglia tutti parenti tutti tutti facevamo festa nella mia perché io ho la la stanza più grande no? e allora qua erano tutte le riunioni facevamo qua e poi dopo tutto un tratto quello che ho fatto è sparito tutto il mio prossimo pensiero è stato che ho detto io sono colpevole fuori e loro innocenti stanno in carcere poi quando sono entrato qui dentro non la conoscevo più la casa perché era tutta come devo dire bisognava tutta pulirla tutta quella notte non ho dormito per niente perché io la spesa me l'ho fatta in Germania dai mo in Germania in carcere per portarmela qui per non andare negli negozi perché dico ho mi vergogno di andare dopo sette anni c'è qualcuno che mi vuole male qualcuno c'è tanti pensieri per la testa quindi lo zio Michele continua a dichiararsi colpevole ora spiegatemi gli inquirenti cosa ci avrebbero mai guadagnato a stabilire che le colpevoli fossero madre e figlia e non accettare la confessione semplice dello zio Michele se non ci fosse un motivo naturalmente quindi ovvio che noi sappiamo che non è sta non ha anzi non ha stato lui non ha stato lui nonostante lui continui a dire di essere stato lui e effettivamente non ha molto senso che queste trasmissioni televisive continuino a dargli parola al di là del piacere del trash perché comunque è una persona che non dice il vero che continua a confessare un delitto che non ha commesso ma secondo me zio Michele è tipo l'unico caso nel mondo veramente assurdo ancora per cercare di scagionare la sua consorte e la figlia che però secondo me è meglio che stiano lì e che lui se ne sia liberato sinceramente visti i soggetti alla fine lo zio Michele non era altro che un sottone di quelle due che ha cercato di fare quello che poi effettivamente un padre farebbe però non è riuscito insomma nell'intento e quindi non ha stato lui comunque per ora come si vede da questo screen la serie non è disponibile se voi cercate a vetrana non esce nulla su Disney è proprio stata eliminata è proprio stata tolta anche se il trailer è tutto dalla piattaforma però ovviamente Disney Plus ha fatto ricorso Disney Groenlandia che credo sia la società di produzione non concordano con la decisione del tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti confermano infatti che per ottemperare il provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal tribunale di Taranto il lancio della serie intitolata a vetrana a cui non è Hollywood è rinviato le parti non concordano con la decisione del tribunale e faranno valere le proprie ragioni vabbè quindi insomma speriamo che riescano in qualche modo a riottenere la serie perché la vogliamo vedere tutti perché l'idea di fare la serie su a vetrana è una figata che tra l'altro è una serie con gli attori non è una docu-serie è proprio una serie con gli attori quindi sarà veramente super trash io spero anche che sia recitata in modo trash all'italiana e niente io spero tanto nel trash di questa situazione e fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se la guarderete se uscirà sperando che uscirà e noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast di Diva Podcast